Ciao ragazzi, benvenuti. Questa volta su Provacellulari.it siamo in compagnia del Samsung Galaxy S4. Abbiamo già detto praticamente tutto nell'unboxing, quindi vi rimando lì per le considerazioni fatte sul telefono. Rapidamente è un Full HD da 5 pollici, un Snapdragon quad core da 1.9 GHz, tutti i vari sensori di prossimità per utilizzare le gesture, fotocamera frontale a 2 megapixel, i tasti soft touch qui. Poi abbiamo nel lato destro il tasto accensione e spegnimento, dietro la fotocamera a 13 megapixel con flash LED, dietro il video in Full HD, qui lo speaker, poi il micro USB, poi il bilanciere del volume, la porta infrarossi per comandare il televisore e il jack da 3.5 per l'audio. Benissimo, abbiamo a vedere subito il browser che ci interessa sempre particolarmente, questo è il nostro sito Provacellulari.it Lo andiamo a caricare e vediamo un po' come va. Una gesture che a me è piaciuta particolarmente e l'unica che io ho attivato praticamente è la seguente, cioè permette di fare sul sensore, diciamo verso l'alto e verso il basso e permette di scorrere la nostra pagina browser. Poi proviamo per esempio ad andare su un'altra pagina, su The Verge, altro sito abbastanza pesante. Diciamo ecco, come avete visto, il telefono io ho premuto che doveva andare, ma non è andato subitissimo, avuto come un lieve impuntamento. Purtroppo ho notato che questo telefono, per quanto riguarda il browser, ogni tanto manca qualche colpo. Il più delle volte naturalmente il telefono è fluido. Ecco, stiamo aprendo The Verge, vediamo un po' come si comporta durante l'apertura. Sta caricando, ecco, questo è stato un lag per esempio, io spostavo per sotto, Mende stava caricando, ma lui non si sposta. Diciamo che ogni tanto ci sono questi piccoli piccoli impuntamenti, per esempio, ecco, sto facendo pitch to zoom, ma il telefono, ecco, ora comincia a rispondermi. Speriamo che si possa, con qualche aggiornamento futuro, risolvere questi lievi impuntamenti che io noto su questo telefono. Diciamo che la navigazione è buona, ecco, è fluida, però guardate qui, guardiamoci a renderizzare la pagina. Sinceramente avrei preferito un browser più performante. E comunque un'altra cosa carina è questa, cioè passando la mano di qua e di là, praticamente, ti viene a scorrere tra le varie schede che noi abbiamo aperto. Quindi, chiudiamo la diverge, riapriamo il suo sito e direi che per questo siamo a posto. Poi, per quanto riguarda le mail, devo dire che le mail si vedono molto molto bene. Proviamo, per esempio, ad aprire questa mail, facciamo mostre immagini, va tutto bene, proviamo una mail in HTML, vediamo un po' se riusciamo... Ecco qui, la mail viene praticamente renderizzata tutta quanta, quindi viene messa tutta quanta sulla stessa pagina e poi si può fare il pin to zoom, ottimo. Poi, possiamo vedere, allora, vediamo un po', possiamo vedere, ecco, la parte riguardante il software e le impostazioni. Allora, cosa possiamo fare? Ebbè, il telefono è NFC, USB, eccetera, e vediamo un po', movimenti e controlli. Qui abbiamo un po' tutto quello che riguardano i sensori. Quindi, abbiamo l'air gesture per controllare i dispositivi con le mail sul sensore, che ve l'ho fatto vedere. Il movimento, quindi, quando si avvicina il telefono all'orecchio, praticamente, si sente, cioè, si chiama la persona. Il palmo, quindi, quando, praticamente, si poggia, per esempio, il palmo della mano sullo schermo, si chiama delle operazioni. Poi, lo schermo intelligente, quindi, lo stand-by intelligente, la dotazione intelligente, la pausa intelligente, tutto quanto, fatto con, orientando, praticamente, in base all'occhio, alla visione che c'è, che ha il sensore sul nostro occhio, praticamente, si ha la pausa intelligente, che viene messa in pausa del video, la dotazione intelligente, che, invece, viene regolata in base alla visione. Lo schermo intelligente, invece, lo schermo inizierà a scorrere in basso o in alto, in base a come ci rileva l'occhio. Bene, possiamo andare avanti. Ah, l'air view, invece, ci consente di vedere un'anteprima, quando noi avviciniamo il dito, e di utilizzare, con i guanti, il dispositivo. Possiamo andare a vedere, infine, la memoria. Abbiamo 9,15 spazio totale, più la SD. Non è molto, questo 9,15. Quando noi andiamo a scaricare un po' di applicazioni, spese e giochi che ci prendono tanti giga, sinceramente, non mi sembra tanto questo spazio. Poi, infine, sul dispositivo abbiamo 4.2.2, quindi Jelly Bean. Poi, quali sono le altre particolarità? Si è parlato tanto di S-Helt, quindi ve ne parlo. Io non l'ho neanche aperto, addirittura, perché, sinceramente, non lo ritengo un'applicazione così importante. Comunque, niente, è un'applicazione che serve, praticamente, per farci tenere in forma, sostanzialmente. E per, vabbè, dovrei fare tutta la registrazione, direi di evitare. Comunque, è per tenerci in forma e per farci fare attività fisica, più tenere tracce delle calorie e del peso, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, vediamo un po' ora come funziona, per esempio, l'Ear Racing su questo telefono. Quindi proviamo un gioco. Ho notato che quando si gioca, quando si sta molto attaccati alla rete internet, sinceramente, questa parte, questa qui, si scalda davvero, forse, un po' troppo rispetto al normale. O comunque rispetto al telefono. Questo sta ancora scaricando. Vediamo se c'è qualche altro gioco, allora, che possiamo provare. Pensavo avesse finito. Magari se c'è Asphalt, se l'ho scaricato. Mi sembra di no. Vabbè, allora, aspettiamo che il Rear Racing finisce, nel frattempo vediamo qualcos'altro. Vandiamo alla parte telefonica. Parte telefonica. Il 190 in questo caso. Siamo con la Sim Vodafone. Vodafone è lieta di accoglierti nel tuo servizio clienti. Sbagliate, non facciamo che brincare con il mio mano. Il dispositivo si comporta bene, sia in ricezione che per quanto riguarda la qualità audio dalla capsula auricolare. Per quanto riguarda invece la tastiera, io ho installato la Swift Key, quindi in questo caso andrei a rimettere la tastiera Samsung, altrimenti non posso far rivedere la tastiera. Io uso la Swift Key perché per me è la migliore tastiera che possa esserci. Però io vi faccio vedere quella stock che non è male, ma a me non è che sia piaciuta troppo perché la Swift Key mi trovo meglio e comunque devo dire che funziona splendidamente. E poi questa particolarità che io spostandomi a destra e a sinistra posso andare a spostarmi con il cursore. Detto questo, andiamo alla parte riguardante la fotocamera. Per quanto riguarda la fotocamera, eccoci qui. Devo dire che il telefono ha tante particolarità. Prendiamo un oggetto tipo questo e proviamo a scattare una foto. Ecco, lui l'ha scattata perché io ho attivato il comando vocale scatta foto. Aspettate che ci provo io. Ecco qui, questa è stata la foto realizzata. Poi naturalmente abbiamo possibilità di... Questo per esempio è un video che è stato realizzato in full HD naturalmente. Andiamola a vedere. Prova, 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 prova. Ottimo video, devo dire. Possiamo andare avanti. Queste sono un po' di foto generali che sono state fatte. Le foto vengono davvero molto bene. Questa è la nostra foto appena fatta. Le foto non la dire. Le foto sono perfette sia in condizioni di luce sia in condizioni di scarsa luminosità. Le foto sono davvero ottime. Qui possiamo vedere tutte le varie possibilità. Panoramica, sport, notte, auto, scatto migliore, dinamico, eccetera, eccetera. Qui abbiamo le nostre impostazioni che ne sono tante. dimensione foto, scatto multiplo, arrivamento a volti, antivibrazione, anche di qui dimensione video. E poi le tag GPS, tasto volume che può fare la tasto zoom, bilanciamento del bianco, flash e tanto altro. Ultima parte riguarda la videocamera e la particolarità di... Dove stava? Un attimo. Dobbiamo andare forse... Qui sotto... Ecco... No, questi sono gli effetti... Ok, non capisco perché parte direttamente la... Parte il video... Prima ci sono riuscito, ora non lo trovo. Comunque c'è la particolarità di mettere il nostro riquadrino qui a sinistra per far provare, per far vedere quindi sia la nostra faccia, sia quella del... Sia quello che stiamo riprendendo. Comunque nel caso faremo un focus dopo per farvelo vedere, ora lo vado a recuperare. E quindi vi ho fatto vedere un po' tutto, manca solo a questo punto di farvi sentire un po' di musica e vedere qualche foto con qualche colore che ci sono su Dropbox. Eccoli... Eccoli... Quindi... Questo è sul fondo bianco e vediamo che nonostante sia un AMOLED il bianco rende davvero bene. Questa è una palette di colori, questa è un'altra palette di colori, questa è un'altra ottima foto, davvero ottimo lo schermo, si vede benissimo. E nel caso possiamo andare a vedere questo video in full HD e vedere come si vede, naturalmente vengono rivisti tutti quanti i video. Ecco qui, si può spostare tranquillamente. E ora deve fare... Ok, va bene, ottimo. Poi abbiamo il... possiamo sentire una canzone, fa vedere com'è l'audio. Qua lo speaker è qui. Bene, direi di non allungare ulteriormente la recensione, faremo un focus a parte per quanto riguarda via racing e la parte della videocamera che stiamo finendo di scaricare da racing e l'altra da ritrovare. Direi che per quanto riguarda la recensione è tutto, il telefono ha uno schermo davvero eccezionale, una buona autonomia, si arriva a sera tranquillamente, tra meno con uso medio, con uso intenso non tanto. Peccato per quei lag che ci sono nel browser, perché se no per il resto, specie nella fotocamera e nelle feature dei sensori, il telefono era davvero bello. Speriamo in un aggiornamento il prima possibile. A presto su provacellulari.it Grazie.